Il Milan di Marco Giampaolo continua a non ingranare e per molti la partita di sabato prossimo contro il Genoa è già l'ultima spiaggia per il tecnico per salvare la panchina, dopo solo sette partite di campionato. È indubbio che le colpe di questo Milan non ricadano solo sull'allenatore, ma la dirigenza del Milan potrebbe cercare di salvare questa stagione affidandosi a un nuovo tecnico. Ecco quindi cinque allenatori che potrebbero prendere il posto di Marco Giampaolo in caso di esonero. Il primo nome è quello di Luciano Spalletti. Il Toscano ha dimostrato la capacità di raddrizzare in corsa squadre che non se la stanno passando troppo bene. Vi ricordatevi quando rilevò la conduzione a Roma da Rudy Garcia e rivitalizzò la squadra giallorossa? È un oltre un tecnico che, se difficilmente centra grandi risultati, ha la caratura per riportare le squadre in alto e perlomeno centrare le qualificazioni europee. E l'ha dimostrato nelle ultime due stagioni all'Inter, che ha riportato in Champions League dopo sei anni di assenza. Quello che sembra mancare a Spalletti è la capacità di dare la spallata decisiva quando serve per portare titoli pesanti a casa. E anche qualche criticità legata alla gestione del gruppo. O perlomeno un po' di sfortuna, visto che si è trovato alla guida di Roma e Inter proprio mentre le squadre affrontavano le rispettive crisi con Totti e con Icardi. Soprattutto però lui stesso non sembra essere interessato al posto, come ha dichiarato in un'intervista pochi giorni fa. Io al Milan che c'ha zecco, ho un contratto con l'Inter, lasciate lavorare Giampaolo, ha detto, definendo il tecnico rossonero l'astronascente del calcio italiano. Un altro dei nomi fatti per la panchina del Milan è quello di un traghettatore d'esperienza come Claudio Ranieri. Lo abbiamo visto l'anno scorso alle prese con una Roma in preda a una crisi di nervi. Ha saputo risollevare l'ambiente e centrare perlomeno la qualificazione in Europa League. E non è stata la prima volta in cui il tecnico di Testaccio ha fatto bene subentrando in corsa. Dieci anni prima c'era riuscito, sempre con la Roma, sostituendo Spalletti e arrivando a un soffio dallo scudetto. Anche se non sempre, va detto, le sue esperienze da traghettatore sono state positive. Chiedere a Inter e Fulham per dettagli. Se Ranieri arrivasse a Milano, tra l'altro, centrerebbe un primato particolare, avendo lui già allenato nel corso della sua carriera Juventus, Inter, Roma e Napoli. Dalla sua alla capacità di motivatore, che ha dimostrato portando il Leicester a vincere la Premier League e l'abilità nel proteggere un ambiente sotto attacco per riportare serenità. Poi predilige un gioco quadrato e semplice da assimilare per una squadra, anche in corsa. Anche se difficilmente potrà rappresentare una soluzione a lungo termine. E anche se, come Spalletti, anche lui ha dichiarato di augurarsi che Giampaolo possa continuare sulla panchina del Milan. Sembra che il Milan non possa fare a meno di considerare i profili di ex allenatori della Roma. Dopo Spalletti e Ranieri, la nostra terza opzione è Rudy Garzia, che ha interrotto il suo rapporto con l'Olympique Marsiglia dopo tre stagioni e una finale di Europa League. È un profilo che al Milan piace e che ha già lavorato con il DS del Milan, Frederic Massara, allora assistente di Walter Sabatini alla Roma. Pregi e difetti? Quando Garzia arrivò in Italia dopo l'esperienza a Lilla, che gli valse uno scudetto, in Francia già avevano preannunciato la sua parabola. Un allenatore con un gioco verticale, estremamente bello e offensivo, ma con il peccato originale di un'eccessiva rigidità tattica, dell'incapacità di cambiare le carte in corsa e di un gioco alla lunga prevedibile. Una previsione che si realizzò puntualmente. Garzia esordì con 10 vittorie nelle prime 10 partite di campionato, centrò due secondi posti e poi venne esonerato a metà della terza stagione con la Roma. Potrebbe ripetere questa parabola anche al Milan? Non è da escludere, ma stavolta partirebbe con uno svantaggio in più. Non è più uno sconosciuto e molti avranno già chiare le contromisure tattiche da prendere per bloccare le sue squadre, che vanno in grande difficoltà nella produzione offensiva contro difese chiuse che non lasciano grandi spazi. Va però detto che Marsiglia ha dimostrato maggiore flessibilità tattica, rinunciando al 4-3-3 che aveva contraddistinto la sua esperienza romana e adottando principalmente un 4-2-3-1. E riportando le ali al centro del progetto potrebbe ridare centralità a qualche nome, come quelli di Rebic e Suso. L'indiziato numero uno è lui, Gennaro Gattuso. E anzi, qualcuno maligna che sabato Rino sarà seduto a vedere Genoa-Milan per vedere chi dovrà sostituire al termine dei 90 minuti, Andrea Zoli o Gian Paolo, entrambi in bilico. Sicuramente Gattuso avrebbe le spalle abbastanza larghe per farsi carico della squadra rossonera. Nella scorsa stagione non ha mai abbassato la testa di fronte alle critiche, proteggendo il gruppo senza mai accampare scuse. Ma un ringhio bis è davvero realistico? Ricordiamo che solo quattro mesi fa Gattuso ha dato le proprie dimissioni, trovandosi in disaccordo con la linea giovane scelta dalla dirigenza rossonera. Secondo l'allenatore, infatti, il Milan aveva bisogno di tre innesti di esperienza per riprovare subito l'assalto alla Champions, fallito di un soffio la scorsa stagione, e aveva addirittura indicato il nome di Fran Ribéry. Mentre la dirigenza aveva indicato come linea da seguire l'acquisto di 6-7 giocatori giovani di cui far crescere il valore. Da questo disaccordo sarebbero infatti scaturite le dimissioni del 28 maggio. Gattuso ha detto di essere disposto ad accettare, a condizione che l'offerta gli venga fatta direttamente dalla dirigenza. Quella stessa dirigenza che punta a rivalutare la squadra per poi venderla, e che ora invece ha paura di farle perdere valore con una stagione non all'altezza. Prima di passare all'ultimo nome, vale la pena passare in rassegna tutti gli allenatori che sono stati acquistati al Milan negli ultimi giorni. Ci sarebbe Roberto Donadoni, che però ha appena iniziato un'esperienza in Cina con lo Shenzhen, che sta provando a salvare dalla retrocessione e con cui concluderà la stagione a inizio dicembre. La pista Allegri non sembra credibile. Come abbiamo già detto in zona mista, il tecnico difficilmente accetterà un incarico prima della prossima stagione, e starebbe pensando alla Premier League. Fuori dai giochi anche Andriy Shevchenko, impegnato con la nazionale ucraina fino alla fine dell'europeo. E sembra lontana anche la soluzione interna, con la promozione di Maurizio Gantz come traghettatore. Il nostro quinto nome per sostituire Marco Giampaolo è quindi Marco Giampaolo. Perché crediamo che serva tempo per un allenatore per far assimilare i propri concetti e il proprio gioco, e anche per rendersi conto delle risorse più adatte al progetto. In più Giampaolo ha la difficoltà di dover imparare a stare a galla a un livello più alto di quello a cui è abituato a stare, in una società con un momento particolare e che certo non lo agevola, visto che il tecnico abruzzese si porta sulle spalle anche colpe non sue. Detto questo, non vogliamo assolvere Giampaolo da quelle che sono anche in parte sue responsabilità, come per esempio la poca sicurezza che ha dimostrato mettendo in discussione il proprio sistema di gioco dopo appena una partita, e il fatto che abbia trasmesso poca autorevolezza sia all'esterno sia all'interno, dove è traspirata qualche polemica di troppo. Giampaolo dalla sua ha sempre avuto un pregio. È un allenatore in grado di aumentare notevolmente il valore tecnico ed economico dei suoi giocatori. Ed è per questo che una dirigenza transitoria come quella del Milan l'ha scelto, per far aumentare il valore della squadra investendo sui giovani. Ora dovrà cancellare quanto successo finora, ritrovare la bussola del progetto e dimostrare di saper valorizzare i giocatori anche a un livello più alto. Questi erano per noi 5 giocatori che il Milan potrebbe chiamare in caso di esonero di Marco Giampaolo. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e se avete altri nomi in mente, oppure se confermereste la fiducia al tecnico abruzzese. Pubblichiamo contenuti nuovi ogni giorno, quindi iscrivetevi al canale e pigiate la campanella per assicurarvi di non perdervi i nostri prossimi video. Siete su OneFootball, io sono Damiano Benzoni e vi auguro un'ottima giornata.